Alimentazione, sport e stili di vita più sani fin da giovani. Questi gli argomenti al centro del nuovo incontro formativo, organizzato dagli Stati Generali della Prevenzione del Benessere e dedicato alle ragazze e ai ragazzi che si candidano a essere i futuri ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte. All'incontro, in videoconferenza, hanno preso parte gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Gaia Olenti di Biella, che hanno avuto l'opportunità di dialogare con Filicina Biorci, biologa e nutrizionista del Centro di Medicina Preventiva e dello Sport dell'Università degli Studi di Torino. Ad aprire la mattinata di lavori, il saluto di Michele Mosca, consigliere segretario del Consiglio regionale del Piemonte. Oggi, purtroppo, la pandemia ha modificato alcune delle nostre abitudini, ma ha anche accentuato l'importanza di una corretta alimentazione per mantenere uno stile di vita sano in ogni circostanza. Risulta quanto mai attuale, oltre che fondamentale, sviluppare una cultura del benessere. Biella e il Piemonte hanno bisogno di ragazzi come voi, di ragazzi che abbiano voglia di studiare, che abbiano voglia di imparare, che abbiano voglia anche di mettersi in gioco. Che possono quindi non solo essere gli ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte, ma anche gli ambasciatori e lo sviluppo e delle eccellenze dei territori. Produzione agricola, tutela della qualità agroalimentare e sana alimentazione sono tematiche alle quali da sempre l'Assemblea regionale dedica attenzione. La stessa che i futuri ambasciatori del Consiglio dovranno usare per sensibilizzare altri studenti loro coetanei, attraverso il metodo di educazione tra pari, così come prevede il progetto che il Piemonte, primo in Italia, ha portato tra i banchi delle scuole superiori. La prevenzione non ha età e va sempre più intesa come fattore di benessere della persona, anche quando si devono gettare le basi di un corretto approccio alla nutrizione. Se la domanda è se ha senso cambiare stile di vita, beh, per il 61% delle morti sì, per il 48% di giorni affetti di malattia sì. Quindi, insomma, la risposta decisamente permette di fare un'invasione di campo anche in quelli che sono stili di vita personali, almeno per creare consapevolezza. Poi ovviamente ognuno scende. Se oggi voi mi diceste, senti un po', ma ho un'unica energia vitale. Mi alleno o mangio bene? Allenatevi e mangiate male. Questo mi sento di dirvelo proprio con tutto il cuore, piuttosto che mangiare bene e non fare nulla. Vale molto di più una fisiologia di movimento che è una fisiologia alimentare.